Allora, calcio a otto, piace o non piace? Sì o no? Dai! Sì, sì, dite sì o no, dite sì o no! Sì, 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 come va detto? Sì o no, sì o no? Non parlare italiano. Dillo, 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 ok, sì, no? Tutti vanno sì, uno di scena ci... Va bene, ci sta, all'escezione che conferma la regola. Bella partita, comunque vi siete divertiti, bella tirata, così piace, ottimi, bravissimi ragazzi, complimenti.